notare la faccia di mio marito così allora abbiamo speso 30 euro giusto 30 euro giuste giuste no stiamo aspettando stiamo aspettando il menù l'ordine da mcdonald giusto qui ci sono anche i bimbi salutati bimbi hanno detto di metterci qui sulla sinistra perché abbiamo preso troppe robe per non intasare di spostarsi un pochino bene adesso mangiamo in vostra compagnia o comunque quanta coda quanta gente che mangia bene benissimo però c'è un mistero non so se è così anche dalle vostre parti ditecelo sotto nei commenti allora o su instagram perché i commenti saranno disattivati sicuramente allora il mcdonald pieno così al mcdrive una coda che non vi dico dieci macchine davanti da un burger king vedevi i cespugli del deserto rotolare modo totale perché dimmi amore adesso arriva la pappa mcdonald vende qualità la gente lo capisce e quindi la qualità c'è coda non lo so secondo mamma eh cosa salviettina grazie amore abbiamo disinfettato le manine igienizzato bene tutte le manine e pulito le manine pulisci le manine sempre gentile guarda arriva arriva la signorina eccomi abbiamo preso così tanta roba no e avevate in cottura la piazza ok grazie allora due sacchetti pieni di roba adesso facciamo questo è l'happy meal di susi facciamo invece che mcdonald vs burger king facciamo la valley vs del pepe le mele poi mangi anche le mele poi si sa cosa fai le porti domani a scuola va bene ok qua abbiamo la salsa ma anche anche le salviette mi dai usate pulisci qua e qua vai la fede la quarta volta che le usate non me la dai riciclata abbiamo un'altra acqua qui abbiamo i tovaglioli questo lo usiamo per il patume e andate via la voce cosa fa vedere cosa c'è qua dentro allora le patatine le pacchette di pollo e un giochino tieni amore a sana colleghi tavolo 7 grazie si amore arriva anche a te qui abbiamo le crocchette con l'asiago dentro ragazzi oh susi poi non dire che ti ho riservato il tavolo più bello eh guarda qua vista guarda luce atmosfera tac frena mano tac vedi serata illuminata guarda le luci si non è che tutti c'hanno questo tavolo eh susi voglio dire sei fortunata questo è il mio Mcwrap questo è il panino di fede tieni un attimo aspetta aspetta mamma giulio si adesso questa è la coca cola di fede cade tutto mamma giulio mamma giulio un attimo arrivo ho due mani eh mamma giulio mamma giulio mamma giulio questo c'è una fame per giulio questo è il panino di fede tieni si si e quale mangio prima ah ti sei preso due panini che fogna che fogna mi permetti di picchiarmi mi dai delle botte o ah queste sono di giulio tieni amore questo è tuo ho mangiato la mia ah va bene ma devo 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 far vedere lo spettacolo non bello Dio che azzanno questo panino ma è bello eh sono buone queste crocchettine mmm no Susi ci sono anche queste crocchette dalle anche a giulio eh mi raccomando giulio guarda questo ha più fame di me guarda come azzanno qualche roba di dove veni così no dai fede non è bello guardare la gente così no la gente è mio figlio ah a te non mi sente neanche quando parlo cioè guarda come guarda come mangio no mi ascolta neanche quando parlo avete capito cosa è successo allucinare che caldo fa qua dentro te l'ho detto io sono senza giacca eh no io non posso toglierla perché ho rispetto per il pubblico allora tu vaglioli zero sono lì e non mi riservi tu vaglioli è bello sposarsi mamma sì ma non farli cadere tutti mamma come si mangia questa cosa? mi lascia un goccio di calma per me che il vagliolo ha saluto la culla come allora guardate oh ma porca vacca Valentina ma continui a combinare dei guai uno dopo l'altro ma allora l'ho visto su instagram ma mi sa che non funziona no non funziona ma cos'è che hai visto su instagram? l'avrà fatto gente che è capace tu sei capace scusate Valentina no non funziona niente l'ho visto su instagram niente non ho detto questo è il tuo secondo panino il secondo panino di fede siamo veramente un po' impediti scusate ragazzi dai le crocchette Susi e vuole l'acqua adesso coca cola io sto bevendo qui abbiamo un'altra salsina altri tovaglioli altri tovaglioli ok non c'è un bicchiere per me? no non hanno messo neanche la cannuccia niente cannuccia niente bicchiere per te mi dispiace ma Giulio ti cadono tutte? no 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 vuoi l'acqua? certo non farle cadere mamma siamo un po' campati eh è vero? dai non fallo cadere Giulio dagli le crocchette Susi e lui le fa cadere dove sono le altre crocchette che ti ho dato? ti ho dato due pacchettini vero? sono qua ok dagli eh allora allora non è bello bere nella bottiglia covid con la bottiglia cioè con l'alluminio esterno cioè così perché c'ho la cotenna eh se no cosa ho preso io cosa questo? ah Fede se non ti ricordi tu ma non mi ricordo cos'è? ti ho messo l'acqua tieni quello con il formaggio fammi dare un morso ma perché mi devi sempre mangiare il mio cibo da quando ti conosco è un vizio terribile che avete voi ragazze terrificante terrificante buona a parte il fatto che l'uccellino da dei morsi che sono qua ha mangiato anche la carta guarda guarda una cosa vergognosa ciao mamma mamma mh bonjour finesse mh becca brappa ho preso questo è buono ma è un po' asciutto eh e anche il mio Giulio non tutto in bocca Giulio non tutto in bocca è quello con la scamorza credo che era quello eh non tutto in bocca un po' un pezzettino piccolo gnocco ma mangia tutto questo qui e mangia tutto in una volta Giulio piano io metto un po' di salsina no non è calda non è calda non è calda ecco qua non è calda ho messo un po' di salsina allora non bevete come sto vendo io perché eh ma non ti hanno dato niente a te cioè non ti hanno dato cannuccia a me mi hanno visto e mi hanno detto ma no ma questo si può bere così non si fa problemi se ne fanno loro bene buono mukbang buono di moda adesso i mukbang si si chiamano così dove mangi ah mamma te sei mica come si chiama con le mie cose questo? eh mac wrap scusa ma non mi consumi tutta la batteria della della luce ciao ragazze insomma la batteria poi rimango a piedi ma no l'ultima volta l'ultima volta un mese fa sei rimasta a piedi tre volte no ma come una batteria hai scaricato tre ma io? tuo padre? ma tu anche non spegni mai le luci così Giulia c'hai una memoria che terribile eh ma non così ma piano capito? non ti ricordi mai niente eh o fa finta di non ricordare tu ragazzi furba ma che è un po bene ma cosa continua cos'è fossimo il ristorante di quelli siamo tavolo 7 del tanto che la coca cola è proprio buona non la beviamo mai noi dammi e la coca cola si la uso per pulire il water ma via tutto altro che i prodotti della grax o via dicendo di quante crocchette ha mangiato cinque in tutto cinque anche questo è asciutto mi risparmiano c'è una sottilettina del formaggino c'è potevano metterci dentro quale vanno risparmio veramente stopposo tu dicevi che era un po stopposo più di burger king anche loro poi dipende sempre che panino prendi se vabbè chiaro burger king un po molle tempo come dire e come dire un po mi c'entra molle scusate è una parola che non è abituata a esprimere usare finita brava non finita vuoi questa amore non tutto in bocca è mastica bene certo che questo qua dietro ha una fame mamma guarda guarda è figlio di quello davanti non c'è più cosa adesso guarda non è elegante però che fate per vedere che mangiamo così che mangio non è bello vedessero tra un buona che mangia anche quasi guarda che l'altro panino è sì non c'è un punto vagliolo certo sì quelli che tu hai dato prima dove sono finiti ma va di moda a vedere la gente che mangia così è un prezzo eh si chiamano video ah me l'avevi detto mukbang ma io avevo visto quelli nati forse in Asia in Cina per tenersi compagnia in Giappone che insomma in quelle zone lì forse in Cina in Giappone era nata la cosa poi si era sparsa un po' in tutto in oriente medio oriente non ci faccio più a finirlo mi dai non fai dare un mosso che vedevo appunto che si sì cioè gliel'ho dovuto strappare dalle mani e non me lo mollava mangia questo intanto ma cos'è quella roba lì? io non la voglio che vedevo che facevano questi video di assaggio di mangiare facciamo gli assaggi vedi il panino non è così secco questo è secchissimo ecco perché c'era la carne mamma Giulio voglio ancora crocchette macchiche sempre un po' più voglio che la dà la mamma morbido forse anche la carne massica e poi c'è tanta maionese mamma ce l'hai per indossi sì dai giù le mostica comunque questo è buono è leggermente piccantino scusa ma perché mi stai mangiando il mio panino? io non lo so faccio quelle traccate e alla fine mi trovo senza panino mi ha dato un robo così e si sta mangiando tutto il mio panino scusa eh prose io ma ho fatto la forse piccante deliche delle patatine da giulia un po sì solo grino ha il gusto io dovevo salutare un'unica mia e di Susi però Susi la messa dentro perché pareva molto sola ma lei ce lo usa non mi aveva fatto salutare veramente si è dimenticato io ho detto guarda che questa ragazza ti saluta faremo un video apposta sono lusingato scusa adesso non mi sembra un momento per vedere in queste condizioni bene cosa c'è adesso per me niente direi che hai mangiato a sufficienza cosa fa il mutile faccio letto poi non conto niente è una cosa allucinante come se non ci fossi no dicevo poteva visto che stanno facendo una cosa anche per i ragazzi le ragazze si potevano prendere anche qualcosa in più per assaggiare far vedere che assaggiamo cose diverse a coca cola Susi ancora fame tieni amore danni un po' a Giulio non sono i fonzi non si fa mamma guarda che lo rovesci cosa inclini guarda mi sedi in pelle umane no allora il mio panino me l'ha mangiato Giulio e Susi scusa è il mio ultimo bocone vuole l'acqua dagli acqua è bruttissimo togliere l'ultimo bocone agli affamati come me acqua una cattiveria incredibile fatta apposta avete visto per togliermi l'ultimo bocone sa che mi dà fastidio terribile adesso non parte più la macchina tieni accendila è caduta di nuovo è Giulio basta chi è? io ho letto bella Daniela bella Daniela chi è bella Daniela? dai allora ciao bella Daniela posso spegnere le luci? va bene ragazzi noi vi salutiamo speriamo di avervi tenuto compagnia di avervi fatto un pochino ridere no è difficile cioè ma base che tu stai ferma così accendi vediamo se la macchina parte accendiamo con le luci accendere come è andata giù hai visto? è andata giù cosa? è andato giù il tuo cervello ciao ragazze ciao a tutti un bocione giù c'è giù c'è giù c'è giù c'è ciao ciao canale ciao ciao mi raccomando fate i bravi se potete spingi oul t'è giù c'è giù c'è giù c'è giù mi raccomando spg